Siamo alla 32esima edizione della regata Brindisi Corfu e la Banca Popolare Pugliese ha confermato per il 18esimo anno consecutivo la sua presenza e il suo sostegno. Il suo sostegno è un'iniziativa che ritiene importante per il territorio e l'ha fatto sin da subito quando ha capito che era un'iniziativa sì sportiva ma anche di promozione del territorio. La Banca Popolare Pugliese è un'azienda che da tanti anni opera nel Salento e ormai anche in tutta la Puglia e in molte regioni limitrofe. Abbiamo voluto assolutamente confermare la nostra partecipazione convinti del fatto che la promozione del territorio, le iniziative di sostegno anche a quelle che sono sportive sì ma di richiamo turistico, possono creare solamente valore. Questo in un periodo come tutti sappiamo di grande crisi, di una doppia recessione e di qualche timido segnale che ci vede a essere un po' più fiduciosi per il futuro.